Sorridi alla vita! Lo Smile Café a Porto Torres è un perfetto ritrovo per un aperitivo o un drink fra amici. Lo Smile Café è anche gelateria e paninoteca. È ampia terrazza all'aperto con intrattenimento e musica live. Lo Smile Café è aperto tutti i giorni. Siamo a Porto Torres in corso Vittorio Emanuele 24.